Un'isola inesplorata. Vi dico in quali modi potete crepare. Caldo, pioggia, malattie causate da insetti per non parlare della schiera di creature pronti a sbranarvi vivi. Facciamo il doppio? Oltre a un bonus se torniamo vivi. Sì. Quella è una scimmia. Oh, mio Dio! Andiamoci via da qui! Lui è Kong. È il re di questo posto. Dobbiamo andare via. Sotto di noi vivono i demoni. Ma io li chiamo Strisciateschi. Perché? Perché suona bene. Ok. In realtà me lo sono inventato il nome. Cerco di spaventarvi. A me non dispiace come nome. Sì, a me sembra... È un bel nome. È un bel nome. Correte! 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 Correte!